casa di riposo, va alle persone meravigliose che ho avuto la fortuna di conoscere e di apprezzare. La competenza, la disponibilità e la generosità di tutto il personale che mi ha accolto ed assistito nello svolgimento della mia attività resteranno sempre nella mia memoria insieme all'intensità dei rapporti umani che ho potuto sperimentare con gli ospiti della casa di riposo e che hanno rappresentato per me una inesauribile fonte di conoscenza di esperienze vissute ma anche di arricchimento spirituale. Voglio approfittare dell'occasione e prendo spunto dall'esperienza ormai più decennale per invitare tutti i presenti a farsi sostenitori e propagatori della importante e meritoria opera che viene svolta dall'associazione di volontariato denominata la quercia che opera all'interno dell'RSA nel venire incontro alle esigenze della fascia più debole della popolazione.